ciao buona domenica ben trovati sul mio canale eccomi finalmente faccio un nuovo modulino che ho studiato ieri sera nuovo tutorial questo è il primo ciondolo ea mio avviso i colori abbinati mi piacciono veramente tanto risalta tantissimo anche con con le candy cabochon sono molto molto belli queste in questa finitura ecce quindi veramente mi piace tanto versione in rosa l'ho fatto per la mia mamma lei me l'ha chiesta e l'ho fatta in questa versione che sarà la versione del tutorial allora vedo solo una differenza che in questo caso il modulo è molto più piatto rispetto a questo che è uscito leggermente come vedete incurvato probabilmente avrò fatto dei passaggi in più essendo il primo modulo dove appunto ho rinforzato tanto fatelo anche voi magari ripassate dove vedete che la lavorazione risulta un pochino più molle ripassate una seconda volta che non guasta in modo da far risultare il ciondolo più piatto allora materiali molto semplici semplice esecuzione e spero che insomma vi piaccia e ho deciso di chiamarlo ciondolo madagascar per via di questo anche per i colori spero di vederne tante versioni vi lascio all'elenco dei materiali e al tutorial ciao materiali utili saranno rivoli da 14 mm utilizzerò questo in cristallo super duo in questo caso utilizzerò due colori però come volete fare voi fate va bene anche un colore solo come avete visto l'altro ciondolo di un colore cabochon doppio foro da 6 mm perle da 4 mm rocaille 80 della toho e rocaille 11 0 della miyuki che utilizzerò in questo colore questi sono i cabochon doppio foro queste sono le rocaille 80 scusate della toho in questo colore le super duo che utilizzerò sono in questo colore qui in pasta like brown e in questo bianco e questo vedere bene filo farline 15 mm e extra fine lago extra fine della miyuki dimenticavo che ci vorranno tra i materiali anche i mezzi cristalli da 4 mm utilizzerò in questo colore bene partiamo con inserire nel lago 2 4 6 8 10 coppie quindi cinque coppie di super duo alternate a 5 perle da 4 mm una volta chiuso a cerchio ripassando due volte fatto il nodo rientrati anche in alcune perline per far sparire il nodo all'interno ci troveremo ad uscire dalla perla prima delle super duo inseriamo 5 rocaille 11 0 e ci andremo a inserire nella perla successiva e questo lo dobbiamo fare per l'intero giro perché adesso andremo a preparare per l'incasso natura netted dunque facciamo questo per tutto il giro finito il giro ci troveremo a questo punto e ci portiamo ad uscire dalla terza rocaille del gruppetto da 5 inseriamo rivoli a pancia in giù e nel lago inseriremo altre 5 rocaille 11 0 per poi entrare nella terza rocaille del gruppetto successivo e così lo faremo per l'intero giro inseriamo le cinque rocaille per tutto il giro ci vediamo a fine giro concluso il giro portiamoci ad uscire dalla terza rocaille del gruppetto da 5 che abbiamo appena fatto e andremo a inserire altre 3 rocaille 11 0 per poi entrare con l'ago nella terza rocaille del gruppetto da 5 che troviamo davanti ovviamente dobbiamo fare un incasso natura netted quindi lavoreremo in questo verso vediamo se ce la facciamo a prendere la rocaille eccola qua questa qui e così facciamo per l'intero giro in modo da chiudere sempre di più il nostro il nostro rivoli facciamolo per l'intero giro ok ora passiamo all'ultimo passaggio per chiuso per chiudere questa incasso natura ci portiamo ad uscire dalla seconda rocaille del gruppetto da 3 che abbiamo appena inserito e reinseriremo altre due rocaille 11 0 per poi inserirci con l'ago nella seconda rocaille del gruppetto da 3 che ci troviamo davanti quindi in questo modo andremo a completare la chiusura della nostra incasso natura facciamolo per l'intero giro adesso non resta che passare nelle due rocaille che abbiamo appena inserito saltando l'ingresso appunto da dove siamo entrati della seconda rocaille del gruppo da 3 quindi ci inseriremo solo nelle due rocaille in modo da stringere ulteriormente passeremo sul davanti e ci posizioniamo uscendo dalla super duo in questo senso allora sopra la la perla inseriremo il nostro cabochon in questo verso con il foro basso e ci andremo ad inserire nella super duo che ci troviamo davanti in modo da posizionare il cabochon sopra in questo modo tra le due super duo andremo ad inserire un'altra super duo sempre dello stesso colore faremo questo per tutto il giro ora portiamoci ad uscire dal foro alto della del cabochon e inseriremo tra le super due cabochon le perle come vedete qui le perle da quattro quindi inseriamo la perla e andremo nel foro alto della super duo che mi trovo davanti tirando bene il filo di nuovo perla e mi rinserisco nel foro alto del cabochon che mi trovo davanti ripetiamo questo per l'intero giro finito il giro portiamoci ad uscire dalla dalla perla da quattro millimetri dove appunto abbiamo al centro la super duo e inseriremo 3 rocaille 15 0 inserendoci nella perla successiva a questo punto invece tra perla e perla dove al centro c'è il cabochon inseriremo invece 5 rocaille quindi andiamo ad inserire le nostre 5 rocaille 11 0 e ci inseriremo di nuovo nella perla che mi trovo davanti facciamolo per tutto il giro in questo giro tirando bene il filo le rocaille si sposteranno sul basso perché vedete che abbastanza abbombata la l'incassonatura quindi andremo a correggere un po questa cosa cosa facciamo ci portiamo ad uscire dalla terza rocaille del gruppetto da 5 sopra il cabochon andando sul retro inseriremo nell'ago due rocaille 11 0 e ci porteremo se vedete il verso del filo e da questo lato entreremo da quest'altro lato nella rocaille in basso qui centrale un attimo zoom ok in questo modo andremo ad incurvare queste rocaille inseriamo di nuovo altre due rocaille e ci inseriremo dall'altro lato della rocaille da dove usciva il filo in questo modo nel gruppetto da 5 così bene faremo in modo che il cabochon vada ancora più davanti si accavallerà un pochino sulla perla e andremo a raddrizzare il nostro lavoro sempre di più ora facciamo la stessa cosa passando all'interno di queste berline uscendo da qui e ripetiamo il passaggio per tutto il giro ecco che il nostro lavoro avrà preso questa forma come vedete non si vede più quell'aspetto brutto della bombatura dell'incassonatura e sarà molto compatto questo è il modulo che vi troverete sul davanti portiamoci ad uscire dalla perla da 4 mm dove avremo davanti il cabochon a doppio foro e faremo questa infilata inseriremo io adesso alternerò i colori delle super duo inseriremo una rocaille 11 0 una coppia di super duo e una rocaille 11 0 e mi rinserisco nella perla che mi trovo davanti in questo modo si posizioneranno le nostre super duo passiamo nella perla successiva e facciamo la stessa cosa e ripetiamolo per tutto il giro allora completato il giro ci troveremo ad uscire con il filo da questo gruppetto da 3 di rocaille e qui inseriremo un cabochon ovviamente inserendoci dal foro basso e ci inseriamo nella super duo che ci troviamo davanti nel foro alto un attimo che il filo si sta intrecciando ok poi tra la coppia di super duo andremo ad inserire un mezzo cristallo da 4 mm che potrete tranquillamente sostituire anche con la perla se volete continuare con le perle da 4 mm o con un micono comunque sia l'importante che sia di 4 mm inseriamo di nuovo un cabochon sempre dal foro basso e così proseguiremo per tutto il giro continuando ad alternare in questo modo il lavoro adesso portiamoci ad uscire dal mezzo cristallo da 4 mm dove davanti ci troviamo appunto i due cabochon cosa dobbiamo fare inseriremo nel lago 3 rocaille 11 0 quindi inseriamo le 3 rocaille e ci inseriamo nel foro alto del cabochon tra i due cabochon dovremo andare alla 8 0 tra le di due cabochon in questo modo di nuovo 3 rocaille 11 0 e ci inseriamo nel cristallo da 4 mm scusatemi 3 rocaille ho inserito per errore 2 comunque sono 3 rocaille così proseguiamo per tutto il giro finito il giro portiamoci ad uscire da queste 3 rocaille prima del cabochon a questo punto inseriremo 4 rocaille 11 0 ci portiamo ad uscire dalla 8 0 che ci troviamo davanti inseriamo nel lago altre due rocaille 11 0 e ci inseriremo nella rocaille qui in basso quella centrale del gruppetto da 3 che ci troviamo sotto le di due cabochon ci inseriamo qui ci rinseriamo senza mettere nulla nel lago nelle due rocaille che abbiamo appena inserito in questo modo e rientriamo nella rocaille 8 0 chiudiamo questo passaggio con altre 4 rocaille 11 0 di nuovo 4 rocaille 11 0 e ci rinseriremo qui nelle rocaille mezzo cristallo e le altre 3 rocaille per riuscire appunto da queste questo gruppetto da 3 per rifare questo passaggio facciamolo per tutto il giro adesso concluderemo con l'ultima decorazione portandoci ad uscire dalla quarta anzi 1 2 3 quarta quinta rocaille prima del mezzo cristallo da 4 mm quindi dobbiamo lasciare due rocaille prima del mezzo cristallo e andremo ad inserire questa sequenza una perla da 4 una rocaille 8 0 e una perla da 4 inseriamo questa sequenza saltiamo due rocaille 11 0 dopo il cristallo ci inseriamo nella terza rocaille in questo modo ma cosa faremo ci andremo ad inserire nella terza rocaille ma direttamente nel cabochon per non ripassare il bordo esterno e rinforzare anche questo passaggio interno per inserirmi rinserirò nell'otto zero e di nuovo nel foro del cabochon per poi portarmi ad uscire direttamente dalla rocaille dalla terza partendo dal mezzo cristallo quindi ci portiamo ad uscire direttamente da qui e di nuovo inseriremo questo quindi per tutto il giro faremo questo passaggio che è l'ultimo lo faremo per tutto il giro di nuovo mi inserisco nella terza nel cabochon e proseguo in questo modo facciamolo per tutto il giro adesso faremo un giro di rinforzo di tutto il giro esterno e ci porteremo ad uscire per fare il nostro cappietto dalla terza rocaille prima della 8 0 quindi contando dal mezzo cristallo 1 2 3 4 dalla quinta rocaille usciamo in modo da fare qui il cappiolino facciamo prima questo giro di rinforzo come dicevo poco fa portiamoci ad uscire qui ed inseriremo nel nostro ago 8 rocaille 11 0 inserite queste 8 rocaille usciremo entreremo da questa rocaille però ci inseriremo in questo verso in modo da rinforzare nuovamente il giro rinseriamoci nuovamente in queste rocaille in modo da risalire e usciamo nelle prime quattro in modo da formare la punta perché andremo ad inserire un'altra rocaille centrale quindi ci inseriamo nelle prime quattro e inseriamo l'ultima rocaille al centro in modo da fare il nostro campiolino triangolare così di nuovo lo rinforziamo dopodiché il nostro modulino rinforziamo nuovamente il cappiolino e il modulo è terminato un accorgimento in più che potreste adottare che dimenticavo prima e di quando farete il rinforzo esterno di saltare la rocaille 8 0 in modo da dargli di più questo effetto appunta passare quindi sotto la rocaille con il filo bene il nostro ciondolo è terminato siamo giunti alla fine del tutorial spero che sia stato chiaro che vi piaccia questo nuovo modulo e soprattutto di vederne tantissime versioni vi raccomando pollice in su se il video vi è piaciuto condividete con gli amici e iscrivetevi al canale se non ancora lo fate cliccando anche sulla campanellina per ricevere le notifiche di tutti i miei tutorial futuri e video grazie per per l'attenzione a tutti i nuovi iscritti un bacione a tutti grazie al prossimo video ciao ciao